Presidente Marsiglio, è oggi in realtà l'accordo con l'autorità del sistema portuale di Ancona? Sì, è stato un protocollo importante, un passaggio importante per rafforzare questa collaborazione e soprattutto per inserire nella nostra collaborazione questa visione strategica condivisa che aveva creato nel recente passato delle criticità e delle difficoltà anche nelle reciproche relazioni e soprattutto nel modo in cui l'Abruzzo si sentiva rappresentato da queste istituzioni. Noi abbiamo inserito e condiviso con l'autorità portuale questa strategia di rafforzamento e prolungamento dei corridoi della mobilità europea che devono entrare in Abruzzo, l'Abruzzo deve entrare in Europa a pieno titolo anche attraverso questi corridoi europei. Ora l'impegno che abbiamo sancito in maniera solenne viene rappresentato e portato nelle mani del governo che ha il compito di condurre la trattativa con la Commissione europea per ottenere questo riconoscimento. Da parte delle istituzioni del territorio abbiamo dimostrato la piena sintonia e la serietà con cui vogliamo perseguire questo obiettivo e io domani sarò a Bruxelles per parlare con i dirigenti della Commissione dei Trasporti per poter sottolineare e perorare questa causa anche se bisogna ricordarlo il negoziato non lo fanno direttamente le regioni in Europa su questa materia, sono i governi nazionali che trattano. Da Roma sono rimbalzate voci che parlerebbero della possibilità ancora di un accordo con Civitavecchia per via della ZES. Ma non ci interessa e questa è una schizofrenia tutta interna al governo che ogni qualche mese cambia idea, dice cose diverse. Noi per la ZES abbiamo un percorso avviato ormai da otto mesi. Abbiamo atteso per mesi che il Ministero ci desse l'autorizzazione come nelle altre regioni. Abbiamo dovuto scoprire che il Ministero del Sud aveva tenuto nel cassetto alcune osservazioni dell'Agenzia per la coesione che si è scusata di questo ritardo, ma noi stiamo pagando un ritardo perché al governo qualcuno ha tenuto le carte ferme invece di farle camminare e di interloquire con l'amministrazione regionale. Stiamo rispondendo a quelle osservazioni, lo stiamo facendo in queste ore. Ci attendiamo che in pochi giorni il governo prenda atto delle nostre repliche, delle nostre osservazioni e ci autorizzi la ZES così come è stata progettata. E noi non ci possiamo permettere il lusso di perdere altro tempo per inseguire le chiacchiere di qualcuno che ha avuto tutto il tempo in passato, perché ricordo che questa vicenda in Parlamento è stata sollevata da un deputato eletto con il Partito Democratico, ora nel Partito di Renzi, ma che era nel Partito Democratico al governo della regione fino a un anno fa al cui ha risposto un ministro del Partito Democratico, quindi è una commedia tutta interna a un partito che sulla ZES ha fatto solo errori, ritardi e confusione. Adesso è il tempo che si stiano zitti e che lasciano lavorare quelli che hanno il compito di farlo e che lo stanno facendo bene come abbiamo dimostrato anche con il protocollo di oggi.